Questo video riguarda i migliori tre cassette per gli attrezzi. Il vincitore della qualità nel nostro cassette per gli attrezzi va al Stanley Cassetta Porta. Cassetta porta utensili con pratico sgancio rapido. Design pesante struttura robusta. Organizer per minuteria e accessori nel coperchio. Barella rimovibile possibilità di riporre anche attrezzi ingombranti. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il TEI-G Cassetta. P Cassetta degli attrezzi in plastica, molto resistente e perfetta per il trasporto di utensili o strumenti. Ha anche un vassoio organizzatore, in cui è possibile conservare e organizzare gli accessori degli attrezzi dentro al vano interno. P prodotto fabbricato in Spagna da TAIG con i più alti valori di qualità e progettazione. P le dimensioni del prodotto sono 290 x 170 x 127 mm. Abbastanza spazio per ottenere il massimo dalla nostra toolbox. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel cassette per gli attrezzi è il Stanley STST1. Dotata di due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile. Realizzata in polipropilene. Con cerniere di chiusura in materiale sintetico. Dimensioni 32 x 18, 8 x 13,2 cm. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.